Un posto al sole, anticipazioni marzo, Silvia si fida più di Giancarlo, ritorna a Otello. L'appuntamento con un posto al sole continuerà a riservare colpi di scena nel corso del mese di marzo 2023. Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 rivelano che, al centro dell'attenzione e delle dinamiche, ci saranno le vicende di Silvia, la quale si ritroverà a dover affrontare una situazione decisamente molto complicata dal punto di vista lavorativo. Come se non bastasse, Silvia inizierà ad avere dei seri dubbi anche sulla persona che ha scelto di avere al suo fianco, cioè Giancarlo. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Silvia si ritroverà al centro dell'attenzione e perché ha le prese con un periodo decisamente no legato al caffè Vulcano. Gli affari non vanno affatto bene, la clientela è diminuita, le spese sono in costante aumento e come se non bastasse e clima tra i dipendenti non è più idilliaco come un tempo. La battosta finale ci sarà nel momento in cui Silvia riceverà una bolletta di 10.000 euro da pagare, la donna deciderà di chiedere aiuto a Giancarlo. Il consulente finanziario, diventato anche suo compagno di vita. Ma le soluzioni che verranno messe sul piatto da Giancarlo non verranno viste di buon occhio da Silvia, le anticipazioni di Un posto al sole del mese di marzo 2023 rivelano che la donna inizierà ad avere dei seri dubbi sul compagno, tanto da ritenerlo poco affidabile. Insomma, Silvia non riuscirà più a fidarsi di Giancarlo e dei suoi consigli finanziari che al contrario, dovrebbero riuscire a darle una mano per venire fuori dalla profonda crisi che sta affrontando. Una situazione sempre più caotica per Silvia anche se, alla fine, la donna potrà contare sul ritorno di un personaggio che fa parte della sua famiglia, trattasi di utello, pronto a rientrare in scena. In attesa di scoprire quello che succederà nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole del mese di marzo 2023. Gli ascolti della SOP continuano a essere molto positivi. Sono stati più di 1,5 milioni gli spettatori che hanno seguito le varie puntate della SOP opera anche durante la settimana del Festival di Sanremo, durante la quale la RAI ha scelto di programmare regolarmente la SOP nell'ex esprime time della terza rete RAI, in aperta sfida con l'anteprima della Kermess musicale condotta da Amadeus. Grazie. 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 Grazie.